Luca D'Alessio riapplica duramente sui social dopo le insinuazioni di Luca Jurman. Caro Luca Jurman, qua nessuno si sente toccato, però ogni due o tre appunzecchiare, appunzecchiare, figli, figliacci, eccetera, eccetera. È normale che ti riferisci a me, ti riferisci ad Angelina, ti riferisci ad Holden. Io penso che siamo tutti e tre dei bravi artisti, poi figurati è un mio onestissimo parere. E poi dovresti sapere meglio di me che il cantante migliore non è quello con la voce migliore, colui che va più in alto, il più preciso. Il cantante è un insieme di tante cose, come canta, come scrive, come sta sul palco, come produce, come fa le linee melodiche e tante altre cose. Ma tu sei più grande di me, dovresti saperlo molto meglio. Infatti mi dispiace e te lo devo spiegare io. Ehi Luca, l'importante è che sia tu in primis a credere in te stesso. Mi raccomando, riprenditi e buonanotte.